Salve a tutti, sono Vodka4ScienceZ e vi do le ultime notizie riguardo Dragon Ball Super su Italia 1. Sono ancora voce di corridoio, però parrebbero essere certe. Allora, la notizia è... Mediaset trasmetterà su Italia 1 Dragon Ball Super non dal lunedì al venerdì, ma dal lunedì alla domenica, quindi tutta la settimana, non stop, dalle 13.45 fino, logicamente, a fine puntata, tutti i giorni però abbiamo la puntata di Dragon Ball Super. Detto questo, la novità, c'è un'altra novità, pare che Mediaset abbia comprato non i soli 27 episodi come in tutti gli stati che hanno acquistato la licenza per trasmettere Dragon Ball Super, bensì 52 episodi. Non sappiamo se trasmetterà anche i 20 episodi extra, però Mediaset parrebbe essere in possesso dei 52 episodi di Dragon Ball Super. Questa era la novità, vedremo come sarà il risultato dell'adattamento e del doppiaggio, pare non ci sarà nessuna censura, vedremo i risultati. Da Vodka4ScienceZ è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!